Il giorno più importante della mia vita è domani. Dove traslochi? In Romania. Sono agronomo ma qui non sono mai riuscito a fare il mio mestiere. La signora Nitti dice che sei uguale a suo marito. Mentre mi parlava di te ho immaginato tutta la strada che dovevi fare. Però tu stia bene. Spero non ti sia pentito di essere partito. E che ti sia passata la paura. Comunque in una settimana hai perso il marito, il lavoro e un cane. Ad un certo punto della storia mi viene un po' di angoscia. E allora scopo. Se non te la senti lasciamo perdere. Non posso mica restare qui. Quindi scappi anche da me? Mi spiace che sei venuto qui per questa merda. E meno che torni in Italia. Un sacco. Un sacco. E meno che tra fai quando ha scopo.